Lasciamo la politica, andiamo a Putignano per respirare l'atmosfera del Carnevale alle 15.30, prima sfilata dei carri, c'è già tanta gente nonostante i 5 euro di biglietto che va comunque molto a ruba. Sentiamo Renato Piccoli. Perché non si può rinunciare al Carnevale di Putignano? Perché c'è la vita, bisogna viverla e poi il Carnevale dà un fascino di colori, di carri, di allegria. Pronti a vendere i biglietti? Sì, sì, prontissimi. I bambini non pagano, però devono passare la prova del misuratore, cos'è? Praticamente i bambini non dovrebbero superare un'altezza di un metro e trenta, più o meno questa altezza qui. E per i bimbi che invece sono più alti del previsto? Se l'età inferiore ai 14 anni i bambini non pagano. Soldi di benzina, soldi di mangiare, soldi di tutti, quindi... Però lei è venuto lo stesso. Ma vengo ogni anno, Putignano è il primo Carnevale d'Italia. Il contributo del comune, parte del contributo della regione, non bastano a coprire tutti i costi. Quindi vi aspetto tutti per sostenere questa manifestazione. Non solo i carri, i fondamentali sono anche gli animatori. Soprattutto. Perché? Perché noi facciamo divertire la gente. Come? Col cuore, con i coriandoli che abbiamo nelle nostre vene. Messicani, a Putignano, ma il muro di Trump vi sta creando problemi? Sì. Perché? Perché non riusciamo a scavalcarlo. Liberi, liberi.